Cosa spinge il tuo cane a fare quello che fa? E cosa fa in modo che i due cani di fronte alla stessa situazione si comportino in maniera diversa? La risposta sta nelle motivazioni, ossia quelle forze che guidano le scelte di un individuo, le sue azioni e in ultimo la sua personalità. In questo video ti spiego le principali motivazioni di un cane e perché è importante che tu impari a riconoscere quali sono quantomeno le principali che guidano le azioni del tuo quattro zampe. Quindi se siete pronti iscrivetevi al canale e partiamo! La prima cosa che devi sapere è che le motivazioni nascono dai bisogni e questi si dividono in quattro macro-categorie, che sono bisogni fisiologici, che sono quelli che riguardano la fame, la sete, il sonno, la libertà dalla malattia, quindi quelle cose che riguardano il comparto fisico e di sopravvivenza. Il secondo gruppo è quello dei bisogni legati alla sicurezza, quindi la stabilità, le certezze, la libertà dalle paure, sentirsi al sicuro. Il terzo macro-gruppo è quello legato ai bisogni di appartenenza, ossia l'appartenere a un branco, l'essere parte di qualcosa, un essere da soli, perché il cane è un animale socievole, quindi per lui è importante essere parte di una famiglia, essere parte di un gruppo. Il quarto gruppo è quello dei bisogni legati all'individualità, ossia il bisogno di essere rilevanti per il gruppo di appartenenza precedente, ma anche il bisogno di poter essere se stessi. Questi bisogni spingono a loro volta motivazioni come possono essere ad esempio quella perlustrativa, che è legata sia alla ricerca di cibo, caccia, che alla protezione del territorio, oppure la motivazione affigliativa, che è data sia dal bisogno di appartenenza che dal bisogno di sicurezza, oppure la motivazione agonistica, che è legata sia all'appartenenza che alla sopravvivenza che anche alla sicurezza, pensala ad esempio rapportata alla gestione delle risorse, oppure al suo contrario la motivazione collaborativa, che è sempre legata alle stesse aree, però è una risposta adattativa completamente diversa, quindi uno conta sulla propria capacità di primeggiare sugli altri, l'altro conta sulla propria capacità di fare gruppo, ma comunque per rispondere sia all'affiliazione che alla sopravvivenza che alla sicurezza. Ci sono poi delle motivazioni intrinseche personali, spesso esaltate dalla selezione di razza. Cos'è una motivazione intrinseca? Devi sapere infatti che ci sono due tipi di motivazioni, quelle intrinseche e quelle estrinseche. Quelle intrinseche sono relative al sé, alla propria personalità. Quelle estrinseche sono invece in risposta a stimoli esterni. Prendi ad esempio la motivazione predatoria. Ci sono cani che partono non appena vedono qualcosa che si muove, altri invece che devono essere proprio affamati per preoccuparsi di andare a cercare qualche bestiolino da mangiare, altri ancora che escono di casa e sono già alla ricerca di tracce olfattive, anche se hanno la pancia piena, anche se ci sono altri cani, altre persone, altre 1700 stimoli, ma loro vanno subito in modalità predatoria. Qual è la differenza tra questi tre cani? Il fatto che i primi due sono mossi da una motivazione estrinseca, quindi c'è una sollecitazione e risponde a quella sollecitazione, mentre il terzo, quello che esce e pensa già all'eprotto, l'eprotto, l'eprotto, ecco quello, risponde a una motivazione intrinseca, quindi dipende da lui più che dall'ambiente. E questo è rilevante perché va a identificare un'attività che per il cane è autoappagante, quindi la fa per il piacere di farla, che la rende quindi molto diversa, sia nella gestione che nel modo di trattarlo, compensarla, ma invece dalle motivazioni quelle sollecitate da un bisogno. Come ad esempio un cane agonista, sarà un cane che si divertirà ad andare in competizione con gli altri per il puro gusto di competere, senza bisogno che ci sia una qualche problematica da risolvere reale. Oppure c'è la motivazione di accudimento, che è estrinseca, quindi risposta a un evento quando il cane ti chiede di prenderti cura di lui perché si è fatto male o sta male. E ci sono volte invece in cui la motivazione è intrinseca e il cane ha bisogno di essere accudito per il puro piacere di essere al centro della tua attenzione, quindi ogni scusa diventa perfetta per fare tragedia. Oddio, ho una zampetta malata, guarda c'è una foglia! Ok? Questo livello qua. Ovviamente questa cosa la vediamo molto spesso nei cani da compagnia. Ecco quindi che arriviamo al punto saliente. Se vuoi comprendere davvero bene il tuo cane, c'è bisogno che impari a riconoscere quali sono le sue motivazioni intrinseche e principali. Queste poi, una volta riconosciute, dovranno essere soddisfatte, talvolta ridirette, ma mai soffocate, perché se vogliamo tutelare il benessere psicofisico del nostro cane, ma soprattutto psicoemotivo, noi dovremmo dare la possibilità di dar voce alla sua personalità e alle sue personali motivazioni. Vado quindi a concludere il video riportandoti quelle che sono le principali motivazioni del cane individuate dal professor Marchesini. Ti dirò solo una parte di quelle che le ha individuate lui e in certe cose un po' te le vado a semplificare. Ma diciamo intanto che partiamo con la nostra lista. E la prima motivazione è quella cinestesica, ossia quella legata al movimento, al muoversi, ok? Quindi alla corsa, al movimento in quanto tale. La seconda è la collaborativa, ossia quella dell'andare a fare cose assieme, il collaborare, pure semplice. Poi abbiamo la perlustrativa, che è quella che permette di mappare territori. Poi abbiamo la predatoria, che è quella che ovviamente riguarda la caccia. La territoriale, che serve a proteggere un territorio. E la sillegica, che non è altro che la collezionistica, ossia quello del prendo porto a casa, prendo e porta a casa, prendo e porta a casa. e probabilmente ti ritroverai facilmente nel capire, ad esempio, che parliamo di retriever. Non solo tra di loro, ma sicuramente una delle principali. Poi andiamo avanti. E abbiamo la protettiva, che è diversa dalla territoriale. La protettiva è proteggo un individuo, ok? O proteggo delle personalità. Posso proteggere una persona, posso proteggere il gatto, posso proteggere l'altro cane, ma comunque è una protezione legata a un individuo. Diverso dalla protezione territoriale, che invece è proteggo un'area e quello che contiene, ma soprattutto l'area. Questa è una nota un po' importante, perché spesso si confonde col cane da guardia protettivo e territoriale assieme. Ad esempio, un Doberman, che è un cane da protezione personale, non va bene se tu lo prendi lo small in giardino per fare il cane da territorio, perché sono due motivazioni diverse. Andiamo avanti. Poi abbiamo la motivazione possessiva. Mio. Facile da capire. E la motivazione di cura, che Marchesini in realtà chiama epimeletica ed et epimeletica, ossia il mi prendo cura di te e tu ti prendi cura di me, ma riguarda comunque il mondo del prendersi cura. Il mi prendo cura di te è piuttosto raro nel cane, cioè non è così tanto spiccata molte volte, mentre il mi faccio prendere cura lo vediamo molto più spesso, soprattutto appunto, come dicevo prima, dei cani da compagnia o in quelli un po' più insicuri. Abbiamo l'affiliativa, ossia è quella di appartenenza, quella dell'essere parte di un gruppo, quella di essere parte della famiglia. E infine abbiamo la motivazione di corteggiamento, cosa che noi non vogliamo assolutamente vedere, illudendoci che il cane stia benissimo a vivere esclusivamente con noi, dimenticandoci che invece lui una sua vita se la farebbe anche molto volentieri, che non vuol dire che non sarebbe con noi, ma vorrebbe dire che se tu avessi la porta aperta e il cane fosse libero di andare dove gli pare, gli piace, quando la mattina tu parti per andare a lavorare, lui partirebbe per andarsi a fare gli affari propri e magari vi rivedete la sera, ok? Perché è obiettivo anche del cane avere un suo gruppo sociale e ovviamente anche un compagno, una compagna, insomma, anche quella parte lì che c'è per alcuni cani è estremamente rilevante. Bene, e adesso il tuo compito, individuare quali sono le tre motivazioni principali intrinseche del tuo cane. Poi su queste andrai a costruire tutte quelle che sono le attività principali che farete assieme e se hai voglia scrivere nei commenti che sarei curioso di sapere quali sono. E poi, in realtà, ci sarà da lavorare anche sulle motivazioni opposte per creare equilibrio, perché noi vogliamo sempre equilibrio vero, ma questo in realtà è un altro discorso. Quindi questo video per oggi finisce qui. Noi ci vediamo alla prossima volta e ricordati che imparare a conoscere il tuo cane è il modo più semplice per poter condividere una vita felice. Ciao!